Bella figlia dell'amore Santena, la città che ospita le spoglie di Camillo Benso Conti di Cavour, l'artefice dell'Unità d'Italia, ma soprattutto viticoltore. Ed è anche in questa chiave che l'AIS, l'associazione italiana Sommelier, ha organizzato un convegno su Cavour, ma è soprattutto venuta a Santena per parlare di vino e per proporre anche un confronto con i vini francesi. Mauro Carosso, consigliera nazionale AIS e delegato Torino. Sì, abbiamo celebrato la cultura del vino quest'anno a Santena, luogo caro alla memoria e ricordi della famiglia Benso, di cui Camillo è stato l'esponente più importante, tessitore dell'Unità d'Italia e grande fautore di quella che è stata la storia del vino in Piemonte, in particolare relativa al Barolo. Il concetto di cultura del vino ha voluto abbracciare questo percorso culturale legato alla figura del Conte di Cavour e soprattutto attraverso la degustazione dei Baroli che abbiamo affiancato ai Burgogni. Quindi abbiamo l'espressione di sei paesi, sei villaggi di produzione del Barolo, i sei più significativi, quindi Verduno, Barolo, La Morra, Serralunga, Monforte e Castiglione-Falletto con sei villaggi della Burgogna, quindi da Pinot Nero, Gevret-Chambertin, Pommard, Vos Romane, Nuit Saint-Georges che rappresentano un po' quella che è non un confronto ma la passione di Cavour, il Barolo e il Burgogna. L'AIS si caratterizza proprio per questo, per voler diffondere la filosofia e la conoscenza dei vini italiani, in questo caso piemontesi, in modo che tutti quanti possiamo contribuire a farli conoscere ed esportarli nel mondo. Certo, il nostro obiettivo, essendo AIS Piemonte, abbiamo un compito importante, anche morale, di promuovere, ma non solo, di promuovere a livello commerciale, che è importantissimo, ma anche far conoscere il vino, il vino piemontese, la cultura e tutta la storia che sta dietro. Quindi è una cosa molto importante, proprio perché questo sia un messaggio di appassione che noi vogliamo trasmettere, quindi noi vogliamo semplicemente trasmettere cultura, passione e apprezzare il vino, un grande vino di qualità che è il nostro vino piemontese.